S.A.R.I.S. 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 Elicottero nemico in arrivo. Calo in bottiglietto esplosivo vicino a voi. Per gli mantenere le distanze, passovi. Attenzione! L'epito schienato a truppe di terra pesantemente corazzate. Missile predito, l'aleato in arrivo. Missile predito, l'aleato in arrivo. L'alto in arrivo. L'alto in arrivo. Calo in arrivo. L'alto in arrivo. Calo in arrivo. Mospedale! Flashback! Masenko! Flashback! Ricarico! Ricarico! Contatti multiple in arrivo! Ricarico! 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 Per Mitarbeiter! Not一樣 de radio! Ricarico! 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 Nemici neutralizzati, se necessario riarmatevi. Nemici diretti verso di voi da più direzioni. Nemici diretti verso di più direzioni. Cambio caricatore! Kamikaze, mantenete le distanze! Missile Predator disponibile. Contacta al West! Ricarico! C'è la tua terra! Guarda! Asseco! Sì, la tua terra! Cambio caricatore! Ricarico! Sì, attimo lavoro, signori! Sì, attimo! I nemici stanno trasportando composti chimici vicino a voi! Contagli a giro! Sì, attimo! Sì, attimo! Sì, attimo! Jatori! I'm going to kill you! 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 Assecco! Secondo, i nemici eliminati. Autism. Helicottero nemico in arrivo. Cani nemici vicino alla vostra posizione. Attenzione! che trasportano esplosivi. Attenzione, nemico schierato a truppe di terra pesantemente curati. Ricarico! Missile predito, alleato in arrivo. Cambio caricatore! Occhio dove sparate! Mi trovate in giù vera! Ricarico! Missile predito, alleato in arrivo. Avate! Le spagno! Occhio dove sparate! Cambio caricatore! Cambio caricatore! Cambio caricatore! Ricarico! Ricarico! Attenzione squadra, rileviamo fortificazioni nemiche vicino a voi. Contaglio caricatore! No! 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 Sono trappoloso la città, rileviamo fortificazioni nemiche vicino a voi! Stanno attento! Andiamo! Andiamo! Emo qua! Andiamo! 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 Il FLIR rileva tracce di calore dirette verso di voi. Il FLIR rileva tracce di calore dirette verso di voi. Bene, ma potete fare di meglio.